Condanne che vanno da 6 anni e 6 mesi a 5 anni e 10 mesi. Si chiude dopo quasi 5 anni il caso del detenuto tunisino coinvolto in un pestaggio nel carcere di Lanza a San Gimignano. Il giudice Simone Spina ha riconosciuto tra i capi di imputazione il reato di tortura in concorso. Oggi c'è solo amarezza perché ritenevamo che nel corso dell'istruttoria si fossero portati alla luce degli elementi a discarico forti tale almeno da rimettere in discussione il reato di tortura che era stato ipotizzato sin dall'inizio. Quindi usciamo ovviamente scontenti ma come succede nell'ambito di processi di questo tipo lasciamo poi la parola ai gradi successivi di appello. La vicenda aveva avuto luogo l'11 ottobre 2018 quando durante un trasferimento di cella l'uomo detenuto per spaccio sarebbe stato picchiato. Le indagini avviate dalla procura di Siena pochi giorni dopo avevano ravvisato il convolgimento di 15 agenti della polizia penitenziaria. A febbraio 2021 10 di loro erano stati giudicati colpevoli con rito abbreviato di reati minori. Quello che ci sembra importante ferma il doveroso rispetto rispetto alla presunzione di non colpevolezza che assiste gli imputati ancorché appena condannati fino al terzo grado di giudizio e che abbia tenuto l'accusa di tortura con una sentenza che qualifica tutti i fatti contestati a tutti gli imputati in concorso per tortura. Poneva le basi per un giudizio simile. Poneva le basi per un giudizio simile. Indicativamente in considerazione del fatto che c'era un'altra sentenza del medesimo tribunale fatta comunque in rito abbreviato dove la documentazione alla medesima era plausibile che l'orientamento dei giudici fosse il medesimo. Sarebbe stato forse strano il contrario.